Com'è nata per te? Che esperienze hai avuto? L'esperienza che ho avuto è che sono stato a Lazzano ospite dell'Associazione Amici dell'Oncologia. Arrivato qua dopo un percorso di tre anni, ho incontrato il dottore Muccio, quindi ho illustrato un po' l'attività dell'Associazione, gli ho proposto qualcosa da fare per questa associazione, ha abbracciato l'idea, siamo andati avanti, siamo arrivati ad oggi con questa iniziativa di riconoscimento nei confronti dell'Associazione Amici dell'Oncologia. Questo è tutto.